Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di compiere il grande passo verso il matrimonio, annunciando il fidanzamento direttamente da Londra, nel suggestivo parco giochi invernale di Hyde Park, luogo che ha segnato l'inizio della loro storia d'amore nel 2018. Durante un giro sulla ruota panoramica, Goffredo ha fatto la proposta inginocchiandosi, e Aurora ha accettato emozionata, condividendo l'anello sui social. Accompagnati dal loro figlio Cesare, nato a marzo 2023, la coppia ha reso ancora più speciale questo momento, simboleggiando il legame profondo e la famiglia che hanno costruito insieme. Aurora e Goffredo si sono conosciuti nel 2017, quando lei era già un volto noto come influencer e conduttrice, mentre lui studiava ingegneria a Londra. Nonostante la notorietà di Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la loro relazione è cresciuta lontano dai riflettori. Il trasferimento a Milano e l'arrivo di Cesare hanno segnato tappe fondamentali del loro cammino insieme. La proposta a Hyde Park rappresenta un ritorno alle origini e una celebrazione dell'amore che li unisce da sei anni. Con l'annuncio del matrimonio, Aurora e Goffredo si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia, con i nonni Eros e Michelle felici in vista delle nozze. La conduttrice aveva dichiarato di voler trovare un fidanzato come quello della figlia Aurora e ora presto potrà chiamarlo direttamente marito. Resta da scoprire la data delle nozze, mentre la coppia si prepara a via.